Portiamo avanti diverse battaglie divise per macrotematiche, trasporti, sanità, salute, enti controllati dalla Regione, su cui abbiamo acceso un faro. L'operazione che ha portato avanti la Commissione Vigilanza fin dal suo inizio è stata quella di un'operazione collegiale che ha interessato tutti i commissari, di maggioranza e di opposizione. È stato un modo per ricevere tutte le tematiche che sono arrivate dai veri territori, su cui mettere una lente di ingrandimento ogni qual volta c'era qualcosa da capire o da risolvere. Facciamo un esempio su tutti, quella dell'ultima Commissione Vigilanza in cui siamo interessati della continuità assistenziale sull'Alto Vastese. Per fortuna noi, dopo il passaggio in Commissione Vigilanza, il tema si è risolto, hanno riaperto quei due sedi di Carunchio e Palmoli. Questo ci rende soddisfatti, vuol dire che la nostra Commissione, dove accende le luci su alcuni temi, quei temi poi chi di dovere è obbligato anche a risolverli. Sì, una Commissione che lavora in maniera collegiale con l'apporto da parte di tutti i commissari. Devo dire, ringrazio in questa occasione anche la struttura che mi sta intorno, perché sarebbe un lavoro davvero molto complicato da svolgere da soli. Bisogna dire un'altra cosa, che quest'anno il lavoro è stato, così come per tutte le Commissioni, complicato. È reso complicato purtroppo dall'arrivo del Covid, che ha rallentato il numero delle sedute rispetto a quelle dell'anno scorso, ma non la qualità. Abbiamo concentrato la nostra attenzione, come dicevo, soprattutto sul tema sanità, perché il Covid e alcune scelte adottate dalle ASL locali ci richiedevano di porre maggiore attenzione, soprattutto sulle delibere adottate che non sempre ci hanno trovato d'accordo. Ringrazio in questa occasione anche la maggioranza. Questa relazione era stata già portata nella scorsa seduta. La maggioranza, per voce del Consigliere Presidente Febbo, aveva sollevato alcune osservazioni su alcuni modi di approcciare il tema. Abbiamo insieme riscritto la relazione su quei punti, più che altro su alcune parti che erano più politiche e più che tecniche. Oggi, insieme all'unanimità, abbiamo licenziato il provvedimento che andrà alla Presidenza del Consiglio e finirà nella prossima seduta del Consiglio regionale.